L'uomo, lo scrittore e il filologo, un solo Tolkien, creatore immaginifico di mondi fantastici e assieme finissimo indagatore della storia delle lingue, intese come organismi viventi, la radice dell'inventiva umana. E ci voleva un altro filologo come Tom Schippey per arrivare, con acume e nitidezza, alla radice di quel mondo, di quell'ispirazione, che dalle parole ha costruito la terra di mezzo. Ho guardato nel tuo futuro e ho visto morte. Ma c'è anche la vita. Tolkien una volta disse, anche se nessuno gli diede retta, che l'invenzione dei linguaggi era il fondamento della sua narrativa e aveva ragione. Noi oggi sappiamo che ha fatto un grande sforzo per sviluppare le sue lingue elfiche. Nell'inventare linguaggi però doveva anche inventare una spiegazione per giustificare il fatto che un linguaggio deriva dall'altro e nel processo di spiegazione di questa evoluzione dovette inventare la storia, proprio come sviluppo di cose. E quella storia non è altro che il Silmarillion, che è poi il grande sfondo sul quale è costruito il Signore degli Anelli. In questo modo si capisce come l'interesse filologico in Tolkien venisse per primo. Fu questo che lo condusse alla creazione narrativa, che a sua volta è più forte proprio perché è il risultato di un background di linguaggio e storie così perfettamente escogitate. Basti pensare al fatto assolutamente ovvio che il Signore degli Anelli, pur essendo lungo oltre 1200 pagine più 150 appendici, non è altro che una mera frazione del materiale che Tolkien aveva accumulato negli anni, il frutto della filologia che sta dietro la sua scrittura. Immagino che sia solo una posizione cerimoniale. Insomma, non si aspettano veramente che io vada a combattere. O sì? Sei al servizio del sovrintendente ora. Dovrai fare quello che ti verrà detto. Quando da ragazzo a scuola leggevo Omero, Virgilio, Milton, tra me e me pensavo sarà mai possibile scrivere un'epica ai giorni nostri? Il mondo è diventato troppo disincantato e ironico per gli eroi e invece Tolkien ha inventato un modo di riproporre l'epica nel Novecento grazie a quel colpo di genio che è stata la trovata degli Hobbit, personaggi che sono tutt'altro che epici e che si trovano costretti ad interpretare il ruolo degli eroi. In Tolkien il pregio è che c'è un eroismo ampio che va da figure modeste come appunto gli Hobbit a personaggi grandiosi. Per questo ha tuttora sfilza di imitatori, per questo ha influenzato film e videogame. Tolkien ha conciliato un ideale antico con la sensibilità moderna. Nessuno però saprà mai questi Hobbit da dove li abbia tirati fuori. Si scappa, siamo persi! Non mi importa! Non ci riesco, padron Frodo, non aspetterò che quello ci uccida. Non intendo mandarlo via! Voi non capite, vero? È un furfante! Non possiamo fare questa cosa da soli, Sam. Non senza una guida. Devi essere dalla mia parte. Filologo e medievista dunque, ma capace di escogitare figure bonarie e riottose alla gloria come gli Hobbit e renderli protagonisti di un'epica alla maniera tutta loro, superando così i modelli amati del Medioevo, reinventandoli e sottraendosi a motivi e poetiche della letteratura contemporanea che non troppo amava, anche se... Non bisogna prendere sempre sul serio quello che Tolkien diceva. Spesso faceva affermazioni iperboliche per provocare o per mantenere il punto in una discussione. Io so per certo che leggeva anche diversa narrativa moderna, anche se era, come è noto, attratto dagli autori medievali e in special modo da quegli elementi del Medioevo che secondo lui erano stati tramandati fino alla nostra epoca. Sappiamo ad esempio quanto amasse il poimento Sir Gawain, il Cavaliere Verde, che è scritto in un dialetto che è una variante difficile e molto particolare dell'inglese medio, un dialetto che è sopravvissuto fino ad oggi, ma non come inglese standard. Bene, Tolkien incoraggiò diversi studiosi ad occuparsi di un dialetto urbano di un'area assai prossima a quella in cui venne scritto il poema e lo studio dimostrò che alcuni dettagli e caratteristiche del dialetto sono ancora presenti, comuni e produttive per i parlanti di oggi. Ecco, questo è un qualcosa che ci fa capire come a Tolkien interessassero aspetti che mantengono la nostra epoca in contatto diretto con il Medioevo. Ma Tolkien era amante anche degli sport, quelli tipicamente britannici come il cricket e soprattutto il rugby, anche se all'interesse sportivo si sovrapponeva volentieri l'istancabile dedizione alla parola. Io e lui abbiamo giocato nella stessa squadra di rugby. Tolkien era l'unica persona, inclusa mia moglie, a prestarmi grandissima attenzione quando riportavo i risultati delle partite. Solo che certe volte mi fermava per chiedere il mio parere sull'etimologia di un nome e questa sua abitudine era contagiosa. Una volta, parlando con una collega a Oxford, mi misi a fare speculazioni sul suo cognome, ma lei mi corresse dimostrandomi che non era di origine germanica, ma antico-nordica. Io le chiesi, ma come fai a saperlo? Non sei una matematica tu? E lei rispose, me l'ha detto Tolkien. Ultimamente ho addirittura scoperto che vicino a uno dei luoghi dove viveva c'è un bosco chiamato Bosco Baggins. Io non ci avevo mai fatto caso, ma Tolkien, indubbiamente sì. Come per molti filologi e studiosi, i suoi interessi lo tenevano occupato a tutte le ore perché le cose che vedeva stimolavano in lui il pensiero continuamente. Se gli mettevi davanti un elenco del telefono, cominciava a sfogliarlo interrogandosi sulle etimologie dei nomi che trovava. A tavola, ad esempio, non riusciva a non chiedersi da dove derivassero i nomi che leggeva sui segnaposto. Insomma, era un uomo che non spegneva mai il cervello.